Oggi ciò che in qualche modo ci fa incontrare intorno ai temi e alle esperienze di cui ci parla lui sono proprio l'articolo 9 della Costituzione, cioè quello che riguarda la tutela del paesaggio. Questo è il tema dal punto di vista costituzionale. Però, come vedrete, se può sembrare abbastanza alta come formula, noi la riempiremo di contenuti e proprio per questo abbiamo pensato a lui. Perché? Intanto ve lo presento. Chi è? Perché ti guardano con curiosità. Allora, vi dico subito che è difficile lo definire, Sandro, perché è un regista, è uno scrittore, è un documentarista e io lo chiamo un esploratore, una sentinella del territorio. Quando voi vedete su Telerama i tanti servizi che fanno sulla terra del Saletto, tutti i servizi legati alla tutela, alla scoperta del territorio, ebbene, lì c'è lo zampino suo. C'è sempre lui dietro la telecamera. Non solo, non è soltanto questo. Perciò è difficile da definire. Io ti definisco, con altri amici, ti abbiamo definito Cosimo De Giorgi 2.0. Ma che era Cosimo De Giorgi? Voi lo sapete? Ecco, questa è una cosa grave, per esempio. Però loro non sapranno che è Cosimo De Giorgi. È stato forse il primo salentino, no? Diciamo contemporaneo, a far conoscere veramente il Saletto agli altri. E' stato uno che era un medico scienziato, anche lui, una figura eterogenea, composica, che ha scritto delle pagine bellissime, andando a scoprire, andando a scoprire, a riscoprire, a valorizzare, attraverso un testo che poi si chiama Pozzetti di Viaggio, eccetera, andando a scoprire la nostra identità dal punto di vista esegistico, storico, architettonico, eccetera. Sono suggestioni che vi lancio così e poi, se volete, potete approfondire. Quando noi parliamo di tutela del paesaggio, quando parliamo di tutela del paesaggio, non parliamo semplicemente di quello, ed è una delle ragioni per cui ho voluto Alessandro Romano, che fa questo in mille forme, attraverso la narrazione, i romanzi. So che stai sbancando con l'ultimo romanzo, ogni tanto vince un prego, recentemente ne ha vinto un altro. Quindi è una persona che parla, parla, valorizza, tutela il territorio in tutti i modi in cui l'immaginazione e l'azione possono fare, da prodotti televisivi a prodotti narrativi a blog. Lui c'è un blog eseguitissimo che si chiama Salento a Colori, sul quale andate a scoprire quello che magari avete dietro a casa e voi non lo sapete. E questa è la bellezza di ciò che fa noi. Si può viaggiare in due modi, ragazzi. Si può prendere l'aereo e viaggiare a distanza, no? Si può andare a Tokyo, domani sono in Messico, dopodomani. Questo è un modo di viaggiare, in realtà molto superficiale. Ce n'è un altro, che è quello di viaggiare in profondità. In profondità. Si può approfondire attraverso una storia, attraverso uno sguardo diverso, il micro in cui siete e scoprire un infinito di cui non avete nemmeno idea. Ecco, lui a questo infinito ogni giorno aggiunge qualcosa. Dal tratturo dimenticato, dalla chiesetta da recuperare, dalla grotta su cui le cui origini non si capiscono. Insomma, c'è di tutto, va bene? C'è di tutto. Al personaggio storico dimenticato, a quelle persone alle quali dobbiamo la nostra identità, eccetera, eccetera. La faccio breve, chiudo qua, perché poi voglio subito dare spazio al nostro ospite. Per valorizzare, per tutelare il territorio, prima ne devo cogliere il valore. Quindi questa operazione necessaria, in filosofia la diremmo trascendentale, una condizione senza la quale non avviene la tutela. Se io di un oggetto non percepisco il valore, lo maltrattano, prendono, non do importanza, giusto? Solo se ho capito perché l'oggetto lì è importante, magari perché è legato al mio patrimonio storico, alla mia identità, eccetera, eccetera, identità aperte, tutto ciò non serve a 10 milioni degli altri, ma semmai a offrire la nostra ricchezza nel confronto e nel dialogo con gli altri, a capire chi siamo, a farci capire, e anche dagli altri, va bene? Di questo stiamo parlando. Quindi come vedi, intorno a un articolo, si può aprire un mombo, intorno a un articolo della Costituzione. Siccome voi queste tematiche le portate in esame, io vi consiglio caldamente di prendere appunti su ciò che ci dirà oggi Alessandro. Sì, sto facendo questa ricerca delle nostre origini, perché credo che sia necessaria. Quando avevo la vostra età, praticamente non sapevo niente del Salento, della nostra storia, della nostra terra. E poi ho fatto una scuola che era a Lecce, l'Istituto Tecnico del Turismo, era l'unica scuola esistente che trattava la materia turistica, perché era una scuola all'avanguardia per quei tempi. Poi, misteriosamente, è stata chiusa. Però era l'89 quando mi iscrissi a questa scuola e ricordo il mio professore di allora che mentre ci insegnava la sua materia che era la storia dell'arte, ma lui li pagava sempre sulla storia, sulla grande storia, notavo che aveva, nelle sue lezioni, ci infilava sempre qualcosa che però non c'era sui libri. Un bel giorno, cito, parlando dell'arte romanica, i cui libri di storia dell'arte sono pieni di esempi di esempi artistici di tutta Italia, tranne che del Salento, e lui citò Cerrate. Voi siete mai stati a Cerrate? Adesso Cerrate è scoperta dal FAI ed è uno dei monumenti più importanti d'Italia. Si trova a Ciccolecce, sulla strada che porta verso Casalabate. a me è incuriosiva questa Cerrate, perché lui ne parlava quasi con le gambe agli occhi, però io sul libro non vedevo niente e mi rimaneva dentro questo vuoto, questa mancanza di qualcosa che non poteva essere mia. però ho finito presso la maturità, poi il diploma non mi servia granché e cominciai a fare altri lavoretti per andare avanti nell'attesa ancora di capire che cosa dovessi fare nella vita. In uno dei miei mille lavori che feci dopo i 18 anni ci fu un periodo qualche mese che sono stato a bottega di un barbiere e lì un giorno mentre insalonavo la faccia di una persona venne a sapere della grotta dei cervi di Porto Caesco perché quel luogo l'avevo scoperta nel 1970 e nei suoi occhi umili mentre me la raccontava riviti di nuovo gli occhi del mio professore e cominciò a parlare di questa grotta che ricolma di 3.000 pittogrammi che illustravano la vita dei nostri progenitori un luogo unico al mondo che raccontava una storia di 6.000 anni fa ma che pure questa non la trovavo in questo libro non stava da nessuno e questa cosa cominciava a tirarmi alcune corde dentro poi cominciai a lavorare a Tedrava e iniziai ad andare più spesso in giro oltre la mia lecce io sono di lecce e quindi tramite il lavoro riuscii a unire all'utile e direttevole cominciai a conoscere i paesi della nostra provincia un autentico tesoro poi mi si è spiegato davanti agli occhi perché otteni dall'editore di potermi dedicare a una trasmissione che prima si chiamava Salento da Mare all'epoca adesso poi si chiama Terra del Salento ma da allora ha sempre lo stesso format che mi consente quasi sempre di essere libero di andare a cercare la nostra storia nascosta perché noi abbiamo una storia nascosta eppure noi siamo stati nel centro del mondo per non cercare di dire questa piccola storia sin dalla pre-storia non c'era solo la grotta dei cerchi di Porto Ubanese qui c'era un popolo che aveva una sensibilità particolare vicino a Lecce ad Arnesano nel 1968 fu trovato oggi lo chiamano l'idoletto di Arnesano l'avete visto pure è una piccola statua di pietra è la più antica scultura in pietra che esiste nel Salento è datata 7000 anni fa è una forma sulla cui sul cui soggetto gli studiosi ancora si stanno sono divisi in correnti non hanno tutti un'idea certa su cosa significasse questo questo essere diciamo che si intravede in questa forma che qualcuno ha ipotizzato essere una forma fallica è comunque un'espressione molto particolare dei nostri progettori c'è un altro esempio un po' più bello più reale che si trova nelle campagne di Ostuni dove nel 1991 il professore Donato Popola scoprì una donna sepolta con il pancione era morta pochi giorni prima di partorire è stata sepolta 28000 anni fa come una principessa gli hanno fatto una corona di conchiglie sulla testa gli hanno posizionato la mano sulla pancia mentre lei era stesa di lato come a proteggere quel bambino malato noi non possiamo sapere perché i suoi i miei membri della sua tribuna si perdivano così non possiamo stare nel loro cuore ma possiamo sentirne la vicinanza e a proposito di donne invece a Parabita qui vicino scoprirono le famose veneri di Parabita io vi cito questi esempi diciamo non so se li conoscete come i più rappresentativi dei nostri progenitori preistorici a Parabita proprio queste due donne in cinta che avevano però una forma molto più lungilinea più graziata delle mie preistoriche che si sono trovate per il resto del mondo che erano sempre raffigurate enormi con un sedere enorme con una pancia enorme con i segni quasi senza forma queste sembrano quasi due modelle cioè queste due donne di Parabita avevano solleticato in maniera particolare la la curiosità dell'arte di chi riescono più in questo osso di cavallo per cui si sono realizzati e poi in tutto il saletto per restare chiudere la storia noi troviamo ovunque disseminati dolmen venire che si trovano diciamo anche in Francia in Gran Bretagna in qualche altro luogo del mondo ma qui nel saletto assumono una dimensione particolarmente grande io ne ho censiti un centinaio di un'altra ottantina ne ho trovate le tracce che sono state distrutti tramite le fonti dello studioso cosimo di Giorgi che ci dava il professore e questa dà l'idea di come la società la nostra società già nella pre-storia avesse una sensibilità particolare poi arriviamo in epoca classica questo per dirvi come io negli anni ho rivisto questa nostra terra veramente nel cuore del Mediterraneo come un obbedico del mondo qui da noi c'erano in epoca classica c'era un popolo che si chiamava che i greci chiamavano i messapi a conoscere il matrimonio o meglio li chiamavano i greci noi non sappiamo come loro chiamavano se stessi i greci li chiamavano messapi perché abitavano nella messapia ossia la terra tra i due mani l'ionimo e l'atriatide i romani invece divisero in Italia le regioni divisero questa nostra regione in Apulia e Calabria sembra strano perché la Calabria in realtà la regione di oggi è tutt'altra cosa in realtà la Calabria era noi perché i greci di Taranto chiamavano noi Calabri che significa figli di Magali come ho cercato di raccontare facilmente il Salento aveva questa peculiarità diciamo la zona Tarantina la città di Taranto era spartana era stata fondata dagli spartani noi con i greci siamo stati in guerra Erodolo dice che la più grande strage di greci mai accaduta l'hanno fatta i messapi nell'anno 473 a.C. i quali esasperati per le scorrerie che facevano gli spartani che venivano a rubare da noi i bambini le donne facevano razzie di beni nell'odiena Caromiglio che prima si chiamava Carabina loro fecevano una strage tremenda per deportarsi uomini schiavi cioè loro i greci avevano la cultura di fare schiavi quanto pare che da noi nei messapi non ci sono prove storiche di questo i greci si e quindi loro si rifornivano di schiavi da noi perché ci consideravano inferiori per questo ci chiamavano Carabri e per questo i romani distinsano la Puglia e il Calabria poi tra parentesi la regione Calabria poi si sposta in epoca moderna a quella attuale perché i bizantini fondavano il loro mutato che affondeva l'attuale Calabria e il Salento chiamandolo Calabria tutto tutto il ducato bizantino che si chiamava Calabria poi però quando i bizantini versero il territorio salentino gli rimase solo l'attuale Calabria che in epoca normana assunse il nome con il quale la conosciamo oggi però il nome Calabria deriva proprio da noi eravamo noi Calabri la parte del Salento questo del Lipolino la zona del Lipolina fino giù a un getto li chiamavano salentini questo per completare la definizione di come gli storici identificavano le tre buche che vivevano qui perché pare che la tradizione almeno erotolo dice così questa salentina nacque perché fecero le tribù che la fecero nascere amicizia in salo ossia in mare sbarcarono su questa terra e si stabilizzarono e in epoca classica sono chiamati salentini la zona invece della triale era nel Calabria comunque a tutt'oggi non sappiamo come i messavi chiamavano se stessi però era una civiltà di cui oggi troviamo sui libri sempre greci etruschi romani egizi i messavi avevano una loro unità molto forte purtroppo non siamo stati fortunati nel senso non sono rimasti grandi strutture architettonico artistiche ma quello che è rimasto ci dà l'idea vicino a Vaste fu ritrovato un ipogeo principesco decorato con delle sculture che sono conservate a Musione di Taranto che era la tomba di un dinasta messavico e danno l'idea di quello che era la potenza che avevano i messavi allora anche a Lecce nessuno lo conosce nel palazzo Palmieri nel giantino il palazzo Palmieri è conosciuto così l'ipogeo di palazzo Palmieri è uno splendido esempio di una tomba di un dinasta dalle proporzioni enormi scolpita con delle decorazioni che ho messo anche in qualche immagine che avete visto che danno l'idea di come questo popolo avesse dinasti potenti avesse artistiche che producevano opere d'arte e architettoniche i messavi sono stati capaci di fornire di ogni loro città in alcuni casi addirittura tre cinte murarie come a Manduria che servivano sempre a proteggersi dagli spartani di Taranto noi eravamo diversi dai greci i greci sono sempre stati un popolo che facevano colonie navigavano per tutto il Mediterraneo e facevano colonie noi invece era come se la colonia l'avessimo già decisa era questa non siamo mai andati oltre come se non avessimo desiderio di andare oltre le mura di Egnazia a nord e l'acqua gli apigia all'eura a sud questo era il nostro mondo però questo mondo ha fornito personalità di cui oggi pochi pagano oppure la famosa teoria copernicana della terra che gira intorno al sole diventata famosa con il colore copernico in realtà lui non scoprì niente lui si trovò in una delle carte di Filolao da Taranto che aveva già dimostrato più di mille anni prima di lui che era la terra che girava il tutto il sole e nel medioevo tutta questa sapienza in cui si è persa Filolao era un astronomo uno scienziato aveva dimostrato quello che diceva lo insegnava nelle scuole però Filolao nessuno lo ricorda un suo allievo era Archita che fu stratego massimo di Taranto per sette volte consecutive era un personaggio gigantesco se Taranto fondata 700 anni prima di Cristo quando Roma erano insieme di pastori nomadi quando nel Veneto vivevano sulle parafitte Taranto era forse la città più importante dell'Italia vi si costruivano templi strade era una città potentissima già aveva centomila abitanti era una città governata con saggezza perché Archita insegnò lui stesso al popolo come trarre il maggior beneficio dalla terra per coltivare la terra ma aveva anche una sua coscienza morale e fu lui che salvò Platone dal tiranno di Siracusa di Onigi Platone quando andò in Sicilia ad applicare a cercare di applicare le teorie che lui ha scritto nella Repubblica di creare quella società ideale che lui ipotizzava lui tentò nell'impresa però si inimicò il tiranno di Onigi Terzo che lui prigionò e fu grazie ad Archita che fece da mediatore lo liberò e lo fece tornare a casa altrimenti non avremmo avuto libero più Platone oltre a Taranto comunque oltre alla guerra che avevano i Messabri Taranto aveva scambi artistici e culturali con tutta la Messabria la Messabria fornì anche Roma di personalità importantissime la vostra scuola si chiama Quinto Enion perché Quinto Enion ha a Rudie due passi da Lecce Cicerone lo cita come il padre della letteratura latina è un gigante della della letteratura antica era di Lecce era uno di noi Marco Pacuvio era di Brindisi era un grande poeta scriveva tragedie era un grande pittore questa gente formò Roma perché loro andarono a vivere poi Pacuvio Quinto Enion ed altri andarono a vivere a Roma nel circolo degli Scipioni e Roma si liberò dalle sue radici come dire arcaiche e cominciò a diventare quella che poi è diventata la Messabria aveva una cultura è stata capace di produrre la prima mappa geografica del mondo lo sapete la mappa di Soleto è la prima carta geografica che hanno mai inventato nel mondo è stata scoperta nel 2003 da un archeologo belga anche per nove che in uno scavo nella città di Soleto risalente al quinto secolo a.C. ritrovò questo coccio di un vaso sul quale è traspita la mappa del Saleto cioè voi trovate lì la prima mappa della storia che rappresenta un luogo geografico rappresentava il Saleto e rappresentava le principali città di allora con i nomi anche se alcuni sono abbreviati il nome di Taras è scritto per intero quindi è inequivocabile che si tratta della mappa del Saleto e questa mappa è un qualcosa che non trovate nel libro di storia eppure parlano delle mappe geografiche se leggete una commedia di Aristofane le nuvole in questa commedia trovate due personaggi che parlano delle mappe geografiche che erano testuali parole di Aristofane erano un'invenzione molto utile e democratica in quanto consentiva a tutti di avere una condizione geografica del mondo in cui vivevano tutta questa sapienza poi si perse quando arrivò a Roma che conquistò il nostro territorio tutto il mondo che poi ebbe a comandare tutto fu assimilato a Roma però l'identità di questa terra era molto forte e e poi mi piace citare un un testo di Aristote che nel libro della politica lui dice testualmente lui loda l'uso dei popoli dell'altra sponda che avevano di dividere il cibo con lo spermino nel forestiero sembra una cosa strana però a me piace pensare che lui si riferisse proprio a noi perché la sponda opposta alla Grecia era la sponda della Turchia ma quella era già Grecia erano Greci penso si riferisse a noi e è molto interessante questo dettaglio perché lui dice che la gente divideva il cibo in una sorta di età del loro con il forestiero e se ci pensare è quanto accade ancora oggi molto prima accadeva l'epoca molto prima di il messaggio di Cristo quindi l'epoca cristiana accadeva quello che accade ancora oggi con le tavole di San Giuseppe è un dettaglio molto particolare ci fa capire che questa sensibilità questa profondità è sempre stata dentro di noi l'abbiamo questo diciamo assimilamento della delle nostre tradizioni poi all'epoca cristiana è accaduto anche con con i monumenti i famosi migliori preistorici che dicevo prima sono stati assimilati dai cristiani perché non potendo ancora agli inizi costruire le chiese i cristiani si tradunavano attorno ai menhir per celebrare la messa e in una scoperta che è accaduta una decina di anni fa a Morciano la prologo di Morciano nel restauro della chiesa della Madonna di Costantinopoli scorostando il muro dell'absi della chiesa è venuto giù l'intorno quando è uscito un menhir questo menhir aveva addosso l'affresco della Madonna di Costantinopoli ed era stato la chiesa era stata costruita addosso al menhir quindi dà l'idea che i cristiani adottarono i monumenti nostri preistorici per farne non più simboli pagani ma simboli del culto cristiano è accaduto non so se conoscete la pietra forata di Calimera alla passata a Pasquetta si deve andare a Calimera a Calimera c'è una chiesetta di San Vito andateci perché vi consiglio è un'esperienza da fare almeno una volta della vita nelle campagne di Calimera c'è una chiesetta dedicata a San Vito voi entrate nel centro della chiesa c'è uno sperone di roccia che esce dal sottosuolo e dentro c'è uno fuori se andate a cercare vi toglierete tante curiosità però io vi consiglio andate di persona cioè una Pasquetta perché a Pasquetta apre dopo la chiesa e i calimeresi ancora oggi da tempo immemorabile vanno in quella chiesa non per la chiesa vanno per fare il passaggio attraverso il fuori di questa pietra questo è un richiamo ancestrale sono cose che si continuano a fare da tempi immemorabili il culto del fuori il passaggio attraverso il fuori è una una simbologia femminile che chiama il membro materno e quindi ci riporta a una società matriarcale quando era la donna che organizzava la vita delle comunità e come abbiamo visto con la donna come ho citato prima gli ostuni morta con il pancione con la regina le venere di parabita la pietra forata di calimera un menere forato o trovato vicino un spano ci fanno capire che la nostra terra per qualche motivo è rimasta matriarcale per molto tempo in più rispetto ad altre a qualsiasi altra terra questo mi ha sempre dato molto da pensare perché forse avremmo un mondo più civile se avessimo una società matriarcale che c'è questa comprensione niente poi vabbè non voglio farlo lontano superato il periodo classico in cui come dimostrato il Salento era il cuore del Mediterraneo cade l'impero romano succede un macello prendo come simbolo di quello che succede la città vicino Fasano attuale Fasano c'è una una città messapica e poi diventata romana che si chiamava Ignazia che caduto l'impero romano quindi venendo a mancare l'autorità centrale venendo a esserci le scorrepie dei predoni questa era una città che stava a scuoco sul mare quindi i predoni arrivavano dal mare e congiuntamente a una una tremenda crisi economica la gente iniziava ad avere paura di vivere lì e non aveva da mangiare quindi che successe lì come altrove qui da noi la gente lasciò la città e si trasferì a qualche chilometro dell'entroterra occupando granine lame scavandosi la casa nella roccia questo è un paesaggio un panorama che di cui nessuno mai parla perché oggi quando fanno turismo rupestre vanno in Cappadocia in Turchia chissà perché altre località del mondo sono sempre più rinomate le conoscono tutti ma qui da noi abbiamo una piccola Tappadocia forse ancora più bella se andate lì per esempio a Ignazia troverete in un grande canalone che un tempo era un fiume preistorico un intero villaggio rupestre scavato dalla roccia in cui c'era tutto la gente aveva le case aveva la chiesa la chiesa era affrescata in maniera meravigliosa avevano gli stadi degli animali avevano ogni struttura che serviva a vivere in pratica sì c'era stata la fine dell'impero c'era stato un maceno che era successo però la gente ha saputo reinventarsi e soprattutto è riuscita a sopravvivere in maniera creativa quello che è successo da lì in poi nel medioevo nel primo medioevo anche con la tutti dicono che l'italiano è nato in Toscana Dante la lingua italiana non è del tutto esatto perché il primo fautore di una diffusione di una lingua accessibile a tutti fu un imperatore Federico II un personaggio emblematico amante del mecenate amante dell'arte della cultura lui è stato il primo dalla Sicilia e la lingua siciliana è molto simile al salentino se ci fate caso a promuovere questa nuova lingua che poi arrivò dal nord e qui da noi abbiamo esempi che ci riconducono sia scritti sia pittorici a quello che con Tetrarca con i poeti medievali con chi cantava la monoportese qua c'era già vicino copertino c'è una tripta la tripta dell'angelo che non mi fanno entrare maledetti non mi faranno mai entrare però lì dentro c'è esiste una foto che si trova su internet c'è un affresco meraviglioso in cui si vede un cavaliere e la sua dama in atteggiamento che richiama l'ideale della monoportese quello che cantava noi la chanson de Roland tutti i poemi medievali che abbiamo conosciuto da piccoli io sono cresciuto leggendo quelle cose lì c'è una fresca c'è una prova del fatto che qui da noi questa cultura aveva attecchito nella cattedrale di Nandò il compianto studioso Sergio Ottese è venuto a morire poco tempo fa ha trovato un'iscrizione che ci riporta a questa questa cultura Dante Alighieri mi diceva Don Grazio Gianfreda di Otranto che conobbi prima che lui morisse trovate anche i suoi libri quindi quello che mi sto dicendo poi l'ha pubblicato e è facilmente rintracciabile forse Dante Alighieri è stato qui da noi e ha visto il mosaico di Otranto perché se prendete la Divina Commedia ci stanno alcune descrizioni di personaggi dell'inferno d'artesco che stanno pari pari sul mosaico di Otranto e non sono casualità perché sono descrizioni precise Dante cita un demonio legato mani e piedi con dei serpenti ha citato degli uomini che si tramutano da persone in bestie alcuni dettagli di Saga dei demoni dell'inferno dettagli talmente precisi che sembrano essere una testimonianza visiva di una persona che ha realmente visto quello di cui scrive e infatti nel concubio è lui stesso Dante che dice nella citazione che ha riportato Don Grazio Gianfreda la dicitura che io vedi cioè Don Grazio non sminuisce l'importanza di Dante nel senso non sta dicendo che lui ha copiato dal mosaico anzi ne ha ingigantito lo spessore perché con quella frase Dante non ha assumuto a sé non si è fatto padrone di niente lui si è fatto testimone di quello che ha visto quindi probabilmente Dante potrebbe essere stato qui ma perché Otranto Otranto era il cuore del Mediterraneo in quegli anni quello che troviamo su quel mosaico che grazie a Dio è l'unico rimasto intero di quegli anni parla sì parla di Dio parla della nostra religione ma lì trovate tutte le religioni del mondo trovate Gingameshi pure trovate la Mesopotamia trovate ogni accenno a qualsiasi cultura di tutto il Mediterraneo tutto lo scibile della nostra cultura come continente stava a Otranto il mito di Re Arturo 30 anni prima che qualcuno lo scrivesse stava sta sul mosaico di Otranto nel 165 il mosaicista Panta Leone che veniva dal monastero di Casoli che vi avete visto distrutto lui raffigurava Re Arturo e la prima immagine di Re Arturo che si conosca e stava qui da Noir Salento 30 anni prima che qualcuno scrivesse la storia questo è una bella domanda questa è una bella domanda questo è una bella domanda posso un attimo prego sì magari cominciare a interagire perché come vedete ascoltare lui si inizia e non si finirebbe mai perché ha tantissimo da dirci hai fatto una bellissima domanda ma perché se abbiamo tanto posso fare una domanda a voi ma voi lo sapevate che abbiamo tanto perché quando voi parlate del Salento agli altri quando invitate i francesi gli inglesi gli spagnoli perché li invitate per il mare bello per il pasticciotto magari no per non lo so la pizzica per cos'altro per qualcosa che ritenete no particolarmente tipico nostro eccetera vi fermate alla conoscenza di 7 8 cose no 10 20 50 che ne sanno più se ascoltiamo uno come Alessandro ne scopriremo milioni milioni di ragioni per cui questa terra ha un valore torniamo al discorso iniziale si tutela qualcosa se cominciate a capire nel valore allora vedete che noi stiamo parlando dell'articolo nuovo della costituzione non lo stiamo commentando come giuristi no io vi ho portato un esempio in carne rosa concreto di che cosa significa valorizzare il territorio ora in mezz'ora voi siete tutti in quinto tra poco andrete a fare gli esami no e io spero che in mezz'ora vi siate resi conto quanto meno non è colpa vostra ragazzi non è colpa della vostra assoluta totale ignoranza di ciò che avete intorno totale voi non sapete nulla esattamente come io e lui e ve l'ha raccontato usciti dal liceo non sapevamo nulla magari sappiamo qualcosa su non lo so quello che ha fatto Giotto a Padova quello che ha fatto ma non sappiamo nulla magari studiamo Trilussa studiamo il poeta dialettale non lo so studiamo Goldoni no studiamo Trilussa studiamo poeti dialettali e se io vi dico Dei Dominicis e vedi che è? no è tristissimo sapete perché? perché Dei Dominicis è uno dei più grandi poeti al mondo che è morto 32 era un ragazzino quando è morto leggeva poesie in 7-8 lingue era carallino le traduceva in un modo particolare cioè nel senso che le traduceva in immagini che la sua gente poteva capire ha scritto ha scritto qualcosa cioè di fondamentale per noi dovrebbe essere fondamentale anche molto simpatica amoristica ha scritto una divina commedia nel nostro dialetto con tutti e tre dei famosi canti eh simpatica una versione ironica perché c'è un'ironia nella nostra gente che è è un'ironia particolare pure quella diversa dalla comicità napoletana diversa eccetera lui ce l'ha spiegato no? quel riferimento voi andate in giro cantate le canzoni sul South System messapi salentini non ci capite niente giustamente perché non sapete niente no? lui ci ha spiegato un po' per quello che vuoi in qualche minuto ci ha fatto capire un po' la specificità di essere messapi ora non vuol dire che siccome siamo messapi non sappiamo che vuol dire però possiamo cominciare a capire che vuol dire con la conoscenza con lo studio quello che ha fatto lui la coscienza questa coscienza di esserci di essere un territorio si deve svegliare a lui succedeva mentre faceva la barba e ascoltava qualcuno un professore gli ha trasmesso una fiaccola che poi lui ha reso l'incendio no? perché lui è il treno sta a un accendere la tv vai su internet ovunque c'è lui che ti spiega qualcosa che ti fa scoprire qualcosa ma c'è il resto di scappare a lui poi si è rincappati già a lui ve l'ho detto quando accendete l'acqua non sapeva che era lui ma c'è lui e dice no? ok? le persone così che io chiamo le sentitelle sono quelle grazie a me sappiamo qualcosina di noi vedete che le scoperte di cui ha parlato no? sono tutte recenti anni 70 anni 90 no? perché nessuno semmai veramente occupato per a parte casi estremi come no? notevolissime eccezioni come cose come George eccetera e altri per carità ma nessuno si è mai occupato se ne ha detto queste cose per cui noi siamo i barbari del mondo siamo quelli da cui memoria noi siamo i primi colpevoli a dimenticare siamo quelli che non stanno nelle storie delle temperature invece ci dovremmo essere siamo quelli dimenticati in qualunque ambito andate a prendere un manuale di storia dell'arte anno 2020 non troverete niente quasi del barocco leccese non troverete niente eppure io vi farei leggere delle pagine di alcuni filosofi del 600 sul barocco leccese non mi ricordo che erano in piedi stavano consideravano la città più bella al mondo lecce uno che è il mondo non aveva vissuto eh bello ok bello una di tre famose che io si lo ho perfetto uno perfetto che cosa vi stiamo cercando di far capire oggi attraverso questo che vi dovete svegliare voi e dovete praticare voi l'articino nuova della costruzione guardate che ne avete dato a denaro tantissimo non solo scorrirete quanto siete ricchi quanto siete ricchi perché tutto ciò di cui stiamo parlando è vostro quel mosaico gli esistono Don Grazio quello che era vi ho citato prima che ha scritto il libro sul mosaico lui quando fecero la costituzione europea nei primi anni del 2000 lui aveva una disperazione dentro perché non c'era nella costituzione che hanno scritto nessun accenno alle comuni origini alle comuni origini del nostro continente perché stanno tutte a oltre cioè sta tutto qui tutto tutto quello che ho detto prima non solo della religione ma anche delle tradizioni dei racconti di reatture cioè sta tutto nel mosaico di Orgazio io ti consiglio di leggere quel titolo di Don Grazio perché in ogni figura c'è una storia che accomuna non solo il nostro territorio ma l'Italia tutta l'Europa anche l'Oriente però quando fecero questa famosa comità europea hanno creato solo un apporto commerciale un apporto economico di questo continente ma non può portare se non c'è un ricordo delle origini se non c'è il passato dentro non c'è nessun futuro perché se lo giriamo solo a un rapporto di scambi commerciali potrà durare finché ce ne sarà Gallipoli era la capitale dell'olio dal 500 fino alla fino alla fine dell'800 hanno inventato dell'elettricità perché tutto l'olio che si produceva nel Salento lo imbarcavano a Gallipoli e da Gallipoli andavano nel nord Europa a Gallipoli si imbarcava il prezzo dell'olio che vendevano a Londra cioè eravamo noi che comandavamo l'Europa perché tramite quell'olio illuminavano le corti Parigi Londra tutte le corti d'Europa erano illuminate con l'olio salentino ok è andata bene dal punto di vista commerciale finché c'è stato l'olio finché c'è stata però se la facciamo questa comunità solo per una questione economica non potrà esserci futuro invece se noi ricorderemo si siamo da dove veniamo la strada è tracciata la strada è tracciata è una terza di molte cioè si estende all'infinito quello che voi potete fare nel vostro futuro di questa che continuate a vedere solo determinate piccole cose no finché non scoprite no non scoprite quanta ricchezza c'è dentro il nostro patrimonio non ne comprendete il valore non lo potrete nemmeno facciamo un discorso molto se vogliamo materiale non potrete nemmeno guadagnarci con questa roba ok perché io sono convinto no allora se io devo invitare qualcuno a venire nel saletto e lo devo affidare a te a lei o a me persone che conosciamo poco della terra riusciremo a intrattenere fino a un certo punto un giorno lo porto alla spiaggia un giorno lo porto qua gli faccio 3-4 cose gli faccio assaggiare qualcosa dopo un paio di giorni ho esaurito quello che posso dare a questa persona e quello lì se ne va se lo consegniamo a uno come a lui quello lo fa impazzire per un anno ogni giorno gli fa sfuggire delle cose o no perché c'è un mondo di cose che mi sanno su questa terra ci potrebbe far vedere si infila nelle groglie va o una va bene ok e un grande ringrazio per la parte allora ti ringrazio veramente di cuore e hai fatto veramente di curare bravo per gli esperimenti di avere che siamo in una posizione